Ciao a tutti ragazzi, finalmente un nuovo assaggio, questa volta si tratta della bibita Kirsk, è al gusto creaming soda, che vorrebbe dire, in linea del tutto teorica, che è una bibita aromatizzata alla vaniglia, ma non ne sono sicura, quindi adesso andiamo ad assaggiare e vediamo effettivamente se è vero, ho aperto la lattina, adesso andiamo a vedere, come potete vedere è un bel colore rosa, e adesso assaggiamo. Effettivamente sa molto di vaniglia, ed è anche buona in realtà, non pensavo, quando mi hanno detto che sa di vaniglia non pensavo fosse anche buona, in genere sono molto dolci le cose alla vaniglia, quindi questa in realtà non è dolcissima, si sente appunto il gusto, però non è estremamente dolce. Io se passate dall'Australia o se la trovate anche magari in giro potete provarla, ci sono anche altri sapori come quella limonata normale, il frutto della passione, quindi potete anche scegliere. Ci vediamo al prossimo video, vi ricordo che nel box informazioni trovate i link a tutti i miei social, in particolare quelli su cui sono più attiva sono Facebook, Instagram e adesso anche un pochino Twitter. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate se volete sostenermi e magari avete qualche curiosità da chiedermi. Condividete il video se volete farmi conoscere anche ai vostri amici e noi ci vediamo appunto al prossimo video. Ciao!